Non è che la Lega dice che tutti i musulmani sono terroristi, che mi piacerebbe sentirlo, mi piacerebbe trovare un'affermazione da parte di qualsiasi esponente della Lega che dice quello che ha appena affermato l'ospite che ha appena parlato. La Lega dice una cosa, che nel momento in cui ci troviamo dei terroristi che uccidono in nome dell'Islam, qualche domanda ce la dobbiamo fare, ma ce la faremo anche se dovessero uccidere in nome di Buddha o in nome di Gesù o in nome di chissà chi. Abbiamo solamente detto quello, abbiamo solamente detto nel momento in cui ci sono dei terroristi islamici, perché così sono, e allora stiamo ponendo la questione, abbiamo posto all'attenzione pubblica l'attenzione del governo, la questione dicendo, andiamo a controllare nelle comunità musulmane, nelle comunità islamiche che ci sono in Italia, quello che succede, punto, non abbiamo detto altro, non abbiamo voluto fare atti di razzismo, non abbiamo buttato benzina sul fuoco, non abbiamo detto nulla di quello che viene detto.